Due, ancora due, esclusi, escluso dal Festival di Serretmo, vediamo chi. L'orchestra ha protestato come non dai, sia la ritmica che la sicurezza sono abbiettissimi, la scelta di Manu Cagliari di chiedere che l'orchestra non è mazzogna con il telefono, c'è una scissione precisa. Davide Varda, vecchia giornalista come sono, tra quello che ha votato l'orchestra e quello che ha votato il pubblico a casa, perché su Manu Cagliari c'è proprio stato il disaccordo totale. E anche su Cristicchi, cosa maestro? L'orchestra vorrebbe rendere pubblico il voto, perché il Manu Cagliari, vorrebbe rendere pubblico il loro voto. Vorrebbe, perfetto, allora un attimo, un rappresentante dell'orchestra può rendere pubblico il voto, Marzi, l'orchestra può rendere pubblico il voto? Sì, facciamo una cosa, vediamo l'uso per correttezza, perché magari qualcuno ha detto pubblico un voto, per correttezza, anche se mi sembra di capire qual è il vostro voto, per correttezza vediamo l'ultimo e escluso al Festival di Sanremo. Sono molto più grande, perché non mi sembra di capire qual è il vostro voto, per correttazza, anche se mi sembra di capire qual è il vostro voto. Non è più altissima, finora! Non è più altissima, finora! Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' uno schifo. Ma abolite sto festival della minchia. E' una vergogna. Venduti, venduti, venduti. Questo non potete dirlo perché il televoto è il voto popolare, quindi è la gente da casa che ha votato i tre finalisti. Non siamo noi, esiste, esistono delle regole, esiste il televoto che è del popolo popolare. Il popolo sovrano. Ma mi piace questo confronto. Io sono vera. Hai capito? Passano i tre finalisti di stasera che si giocheranno. La vittoria al festival di saremo solo Marco Medoni con Gianni Vantola. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi per Pupo e il principe dei cetrioli Emanuele Filiberto. Vedete, qui c'è la Bull. Venga maestro un attimo. Un attimo solo, vi prego. Qui c'è la Bull con i tre nomi dei finalisti. Sorteggeremo l'ordine di apparizione, l'ordine per cantare la canzone tra poco. Adesso ci prendiamo tutti un bicchier d'acqua. Un attimo. Solo un attimo di sospensione. E poi estraremo chi deve cantare per primo.